Posso dirti una cosa? Io sentendoti leggere il telegiornale ho perso completamente la testa per te. Io ti devo baciare assolutamente perché io ti giuro... Sei meravigliosa, tu sei veramente meravigliosa. Ecco, la conduttrice potrebbe morire di imbarazzo in diretta. Veramente io ho perso completamente il lume della ragione, scusa la franchezza ma è così. Grazie Gianniocchi per la partecipazione, ricorderò questo momento per tutta la vita. No, io mi fermo in Puglia, mi fermo in Puglia. Per me? Per te, sì. Grazie. Prego. Grazie, grazie per la partecipazione e in bocca al lupo per lo spettacolo. Noi continuiamo con gli spettacoli, certamente, certamente.